Ed eccoci su un altro esempio, lo sperone lasciato lo scorso anno, la risposta dello stesso con l'emissione di due tralci dalle due rispettive gemme, il migliore è però senza ombra di dubbio questo, il quale tra l'altro è anche posto sul percorso della linfa. Ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video. Oggi siamo ancora qui su Country Arms a parlare di votatura della vita. Quelli di voi che hanno visualizzato l'ultima puntata ricorderanno come all'interno della stessa abbiamo trattato l'argomento selezione del tralcio più idoneo a trasformarsi nel futuro fusto della nostra giovane pianta. Oggi siamo qui a trattare l'argomento opposto, ovvero in che maniera comportarsi laddove non siano intervenuti i presupposti per la selezione del fusto. Ma prima di entrare nel vivo anche di questo video lasciate che, come faccio solitamente, vi inviti ad iscrivervi a questo canale. In questo modo mi darete la possibilità di portare qui sul tubo dei contenuti di sempre pronto oliverio. Come vi dicevo la scorsa volta, all'interno di un vigneto condotto in maniera tradizionale, assai risovente, capita che non tutte le piante siano perfettamente allineate tra loro sotto l'aspetto della risposta in termini di crescita. Ciò presuppone da parte del viticoltore la conoscenza e messa in opera di determinati espedienti finalizzati a indurre la pianta ad accelerare quel processo di crescita partito a rilento. E qui veniamo all'argomento vero e proprio del nostro appuntamento odierno, ovvero la speronatura. Ebbene, laddove dopo la messa a dimora delle nostre barbatelle e la conseguente speronatura dell'anno successivo non siano intervenuti i presupposti per lo strutturamento del nostro fusto, allora l'unica soluzione sarà tornare a speronare. Ma dove? Beh, la regola impone di cercare lo sperone su quello vecchio lasciando due gemme. Tra i vari esempi che vi proporrò vedremo però come questa regola alle volte può essere senz'altro bypassata in funzione di una scelta migliore, scelta che è proprio la pianta ad offrirci. E allora non perdiamo altro tempo in chiacchiere e immergiamoci nella pratica di questa fondamentale attività. E allora veniamo al primo caso di quest'oggi. Ed ecco lo sperone lasciato lo scorso anno, la risposta delle due gemme con l'emissione di due tralci. Tra i due il migliore è senz'altro questo distale. Ma prima di procedere con la potatura sul versante di mio interesse vado senza ombra di dubbio ad eliminarmi questo tralcio che la pianta ha emesso qui alla sinistra dei vostri schermi, poiché esso non mi occorre a nulla. Lo faccio con un taglio radente e poiché come abbiamo lasciato intendere sarà su questo tralcio che andrò a costruirmi il mio sperone, per prima cosa vado ad eliminarmi questo. Acceco le gemme poste qui alla base dello stesso ed effetto un taglio di rispetto. Questa piccola porzione di legno lasciata eviterà che il cono di dissecamento penetri sul percorso della linfa qui all'interno del tratto lasciato lo scorso anno. Ovviamente con la potatura secca del prossimo anno potrò tranquillamente andarlo ad eliminare. In seconda battuta mi rifilo il secco e contando una e due gemme procedo con la speronatura ed ecco fatto. E veniamo ad un altro caso come vedete qui lo sperone lasciato lo scorso anno lo riconosco dalla porzione di secco qui in cima. Le gemme lasciate sullo stesso non hanno però risposto nella maniera sperata ma qui ed eccoci immediatamente a uno di quei casi che auspicavo inizio video ecco qui come vi dicevo che la pianta ci offre un'alternativa decisamente migliore. Quindi abbandoniamo la regola di cercare lo sperone su quello vecchio e utilizziamo ciò che di nuovo ci ho offerto proprio dalla pianta. E allora con un taglio di rispetto collocato in questa posizione vado ad eliminarmi il vecchio sperone. Con un taglio radente per evitare che le gemme di corona buttino mi elimino questo tralcio un versante che senz'altro non è di mio interesse. E contando una e due gemme vado a speronarmi a questa altezza ed anche in questo caso il gioco è fatto. E veniamo allora a potare su un'altra pianta le due gemme che hanno dato vita a due rispettivi tralci uno dei quali è davvero quello qui basale insignificante. Sembra proprio che per la costruzione del mio nuovo sperone io debba necessariamente orientarmi su questo tralcio. Ebbene posso anche fare un'altra scelta scelta che mi è offerta senz'altro da questo nuovo tralcio emesso dalla pianta. Vedete ho spostato la camera siamo sempre sul percorso della linfa anche se su un altro versante della nostra giovane pianta. La sezione di tralcio su questo lato è decisamente più generosa avendo un diametro assai più robusto rispetto a quello del tralcio emesso dallo sperone. E allora cosa faccio? Mi conto una e due gemme e mi sperono a questa altezza. Ed effettuando dei tagli radenti vado successivamente ad eliminarmi tutto il superfluo. Ed ecco fatto. La potatura anche per questa vite è ultimata. Esempio numero 4 lo sperone lasciato lo scorso inverno. I due tralci emessi dalle rispettive gemme. Su quest'altro versante invece dei tralci per così dire avventizi generati in seconda battuta dalla pianta. Comincio con l'eliminarmi proprio questi ultimi. Lo faccio praticando dei tagli radenti. E giunto al momento della scelta tra i due ovviamente andrò a selezionarmi il meglio conformato che è questo. Elimino il secco dello scorso anno. Vado ad accecarmi con le dita le gemme su questo tralcio che intendo eliminare. Lascio una consueta porzione di legno di rispetto. E contando una e due gemme vado ad effettuarmi una speronatura a questa altezza. Ed anche per questa giovane vite è tutto. Altro esempio. Ecco lo sperone lasciato lo scorso anno. La risposta delle gemme lasciate sullo stesso con l'emissione di ben due tralci. Ovviamente tra i due il migliore lo vedete anche voi è quello posto qui in alto. Ciò significa che dovrò senz'altro eliminarmi questo basale. E allora vado ad accecarmi come nel caso precedente le gemme poste su di esso. Non voglio che germoglino. E vado a lasciarmi un piccolo moncherino di legno di rispetto. Rifilo in seconda battuta il secco. E vado senz'altro ad eliminarmi questo tralcio emesso dalla pianta qui alla vostra destra. E' il momento della scelta delle gemme sullo sperone. E allora contiamo uno e due ed effettuiamo un taglio a questa altezza. E anche qui il gioco è fatto. Ed eccoci su un altro esempio. Lo sperone lasciato lo scorso anno. La risposta dello stesso con l'emissione di due tralci dalle due rispettive gemme. Il migliore è però senza ombra di dubbio questo. Il quale tra l'altro è anche posto sul percorso della linfa. E allora parto subito con l'eliminarmi con un taglio radente. Quello che era collocato sul versante sinistro dei vostri schermi. E con un unico taglio vado contestualmente ad eliminarmi il secco dello scorso anno. Più questo tralcio che non mi occorre. Mi concedo questo lusso. In quanto come noterete la porzione di legno di rispetto residuale. E' davvero molto abbondante. Fatto ciò mi sposto sul tralcio di mio interesse. Quello che appunto mi occorre per la costruzione del mio nuovo sperone. E contando una e due gemme vado a tagliare a questa altezza. E anche per questa vite abbiamo ultimato. Esempio numero 7. Parto subito con l'eliminarmi questo tralcio posizionato alla destra dei vostri schermi. Non mi occorre. E sullo sperone lasciato lo scorso anno mi individuo i due tralci utili. Questo è davvero troppo misero ai fini della costruzione di un eventuale sperone. Vado allora ad accecarmi le gemme poste alla sua base. Lo faccio con le dita. E lascio una porzione di legno di rispetto. In questo modo eviterò che il dissecamento si sviluppi sul percorso della linfa. Mi rifilo dunque il secco. E contando una e due gemme vado a speronarmi a questa altezza. E anche su questa vite la potatura è effettuata. Esempio numero 8. Lo sperone qui lasciato lo scorso anno il quale non ha dato adito a nulla di utile. Fortunatamente su quest'altro versante la pianta con un tralcio a ventizio ci regala una nuova opportunità. E allora vado senz'altro ad eliminarmi il vecchio sperone e praticando tutta una serie di tagli più o meno radenti vado a fare una certa pulizia. Cambio di qualche centimetro in quadratura e considerando una e due gemme vado a speronarmi a questa altezza. Ed anche qui abbiamo ultimato. Ennesimo esempio. Qui vediamo lo sperone lasciato lo scorso anno con la risposta da parte dello stesso con l'emissione di due tralci. Il migliore dei quali è senza ombra di dubbio questo posto alla vostra sinistra. Comincio subito con l'eliminarmi questo posizionato a destra. Non mi occorre. Vado dunque a rifilarmi il secco e avendo scelto questo come tralcio più idoneo alla costruzione del mio nuovo sperone vado come ho fatto anche nei presenti casi ad eliminarmi le gemme presenti alla base di quello che intendo eliminare. Lascio una porzione di legno di rispetto e considerando una e due gemme vado a effettuarmi il mio taglio a questa altezza. Ed ecco fatto. E per concludere caso numero 10 con lo sperone lasciato lo scorso anno la gemma che ha buttato l'unico tralcio dello stesso. Tralcio davvero ben disposto in quanto si attiene perfettamente al percorso della linfa. La mia scelta ovviamente non potrà che ricadere su di esso. Vado dunque ad eliminarmi con dei tagli radenti i tralci avventizi partoriti dalla pianta. Non mi occorreranno. Mi elimino il secco. E considerando una e due gemme vado a speronarmi la mia vite a questa altezza. Ed ecco fatto. Potatura conclusa. Ma ad inizio video vi avevo accennato a casi in cui è possibile forzare la regola di cercare lo sperone su quello vecchio. Prima di salutarci dunque vorrei presentarvi un paio di casi di questo tipo. Ecco qui dietro lo sperone lasciato lo scorso anno il quale ha emesso in ogni dove dei tralcetti davvero insignificanti. Mentre qui sul versante posto alla vostra sinistra la nuova soluzione che è la pianta stessa ad offrirci. E allora raccogliamo questo invito. Andiamo ad eliminarci con un taglio radente lo sperone lasciato lo scorso anno. E considerando una e due gemme speroniamo tranquillamente a questa altezza. E come possiamo apprezzare la vigoria di questo nuovo sperone è davvero tutta un'altra cosa rispetto al precedente. Tra l'altro ho effettuato l'eliminazione del vecchio sperone in una posizione davvero lontanissima rispetto a quello nuovo. Sfruttando tra l'altro il percorso della linfa su quest'altro fronte della mia giovane vite. Ed eccoci su un altro caso simile al precedente. Lo sperone lasciato lo scorso anno. Una sola gemma che butta questa posta su questo lato. E qui decisamente di migliore un tralcio a ventizio gettato dalla pianta stessa. Ovviamente è proprio questo il migliore tra tutti. E sarà proprio su questo che orienterò la scelta per la costruzione del mio nuovo sperone. Andiamo dunque ad eliminarci lo sperone vecchio e quest'altro piccolo tralcetto a ventizio. Cominciamo con l'eliminare il secco. Qui mi comporto accecando come già vi ho mostrato in svariati casi le gemme poste alla base del tralcio. Ed effettuando poi un taglio di rispetto. In questo modo sarò sicuro che il secco non intralcerà in nessun modo il percorso della linfa in direzione del mio sperone. Pratico un taglio radente su questo versante per evitare il germogliamento delle colone. E avendo spostato di qualche centimetro l'inquadratura vado a contare uno e due gemme e sperono a questa altezza. Ed anche questa vite è correttamente potata. Bene amici che altro aggiungere? Penso che le immagini che vi ho mostrato parlino piuttosto chiaramente. Spero che questa guida pratica alla speronatura della vite possa tornarvi utile. Se così fosse mi raccomando a lasciarmi un bel like. E a me non resta altro da fare che salutarvi tutti con un caro abbraccio e darvi appuntamento sempre qui per una prossima puntata. Ciao!